I carabinieri della compagnia di Molinella hanno tratto in arresto i presunti autori di una truffa aggravata ai danni di una persona anziana. L'arresto è stato eseguito nella fragranza di reato, mentre stavano portando a termine la truffa ai danni di una 72enne del posto, che gli stava consegnando oltre 7000 euro in contanti, nonché vari monili in oro. L'arma dei carabinieri è infatti da sempre impegnata nel contrasto al fenomeno delle truffe ai danni delle fasce più deboli della società, con servizi di natura preventiva, repressiva ed una costante campagna di sensibilizzazione delle comunità. Per non cadere in raggiri, spesso è sufficiente prendere alcune precauzioni. Non fidatevi delle apparenze e seguite i nostri consigli che trovate illustrate sulla pagina www.carabinieri.it